In questo momento la situazione a Milano è ovviamente una situazione difficile per quanto riguarda sia la gestione clinica che la gestione organizzativa. Però io penso veramente che questo sia il momento e che sia giusto soprattutto ribadire che è necessario che ognuno di noi, ogni cittadino, si faccia in qualche modo responsabile e ci sia una presa di coscienza da parte di tutti che questo problema riusciremo a contenerlo solo e unicamente se ci sarà uno sforzo, ripeto, da parte di tutti, di ogni individuo, nel rispetto di quelle che sono le misure per riuscire a ridurre la diffusione del virus, quindi le misure di riduzione del contagio. È importante che la gente capisca che deve usare le mascherine, che non debba frequentare luoghi affollati, che se possibile lavori da casa e che in qualche modo cerchi di rispettare tutte le indicazioni che i media stanno dando in questi giorni. Solo grazie a una presa di coscienza da parte dei singoli cittadini e da parte di tutta la comunità non riusciremo veramente ad avere un impatto nel contenimento del virus. Grazie a tutti.